A me non convince questo continuo menare il camperlaia del governo e una volta ti parlano dei rave, e una volta ti parlano dei pos, e una volta ti portano la questione sull'immigrazione con un furore ideologico degno di altra causa. Alla fine, sa chi ha fatto l'opposizione meglio di tutti in Italia? Non è Lashlein, non è Conte, non è il terzo polo, è Flavio Briatore, che è uno che ha votato destra e ha detto, oh, ci avete rotto le scatole di parlare di questioni che non riguardano la vita delle persone. Qui nessuno parla più di tasse. Abbassiamo un po' le tasse perché continua a chiacchierare, Giorgia sulle tasse. Senti, ma sta cercando di superare a destra la Meloni sulle tasse, lei? No, non è che sto cercando di superare, è lei che mi ha superato a sinistra perché non le ha abbassate, io le ho abbassate, a Meloni no. Grazie a tutti.